buongiorno a tutti ragazzi 9 novembre 2020 sicilia quasi estate eravamo venuti a pescare non abbiamo avuto neanche una tocca finora le riprese le sto facendo con la mia nuova action cam nilox wifi 2 che ho comprato meno di 50 euro su internet ho comprato anche una scheda il tutto mi è venuto meno di 70 euro i miei primi 70 euro guadagnati su youtube grazie anche a voi ho preso questi questi due regalini adesso la corsa che comprerò prossimamente sarà la pettorina così farò vedere nei video il recupero del pesce in modo che appunto i miei video diventano sempre più ricchi e più belli questa è impermeabile fino a 30 metri di profondità adesso la proveremo proprio sott'acqua io ovviamente non ho come una muta il bagno si può comunque fare la temperatura dell'acqua è sopra i 20 gradi ancora certo stare un bel po comincia a sentire freddo ma il bagno si può fare ancora quindi adesso mi immergerò e la testerò anche sott'acqua vediamo come si vedono le immagini ovviamente non è una gopro anche se è una 4k vediamo vediamo un po un po' Grazie a tutti. 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 Ne abbiamo approfittato di questa bellissima giornata, come dicevo, quasi estiva. E niente, approfittiamone fino a quando possiamo, perché mi sa che fra poco chiudono tutto. Di nuovo, fino a quando possiamo, fino a quando possiamo godere il mare, godiamoci. Un abbraccio a tutti. Grazie a tutti.